video run punto it buonasera bentornati siamo finalmente partiti con la nostra atletica e che atletica lo avevamo detto che l'atletica quest'anno ci avrebbe regalato delle forti emozioni come del resto ha già fatto nel corso di quest'anno travagliato ma sapevamo che alle olimpiadi avremmo presentato una grande italia un'italia che avrebbe piazzato la bandiera come uno sbarco sulla luna ebbene oggi abbiamo già visto l'inizio dello spettacolo è chiaro che adesso ci concentreremo ovviamente da qui in avanti molto di più sulle gare dell'atletica perché sono tante e non per togliere nulla gli altri sport ma in questi giorni abbiamo vissuto davvero tanto di tutti gli sport olimpici sul piano italiano e non solo ma dato che adesso l'atletica ha tante competizioni da da vedere da disputare allora rischieremmo di rendere troppo lungo quello che vuole essere ovviamente solo un riepilogo un riassunto delle varie giornate olimpiche intanto facciamo un resoconto generale di quella che è la situazione del nostro tricolore italia che scende dalla decima alla quindicesima posizione perché oggi in casa italia entra una sola medaglia e tra poco ne parleremo ma ci basterebbe come abbiamo già detto già un solo oro per salire quantomeno in ottava posizione quindi è tutto da vedere è tutto ancora aperto ma andiamo inoltriamoci in quello che è lo stadio olimpico di tokyo siamo già entrati ed eccole lì la batteria delle cento metri donne avevamo la nostra fontana la nostra buongiorni a rappresentarci buongiorni si qualifica per la semifinale chiudendo al terzo posto nella sua batteria con 11 secondi e 35 centesimi eliminata purtroppo vittoria fontana andiamo subito nei 400 ostacoli uomini il nostro alessandro sibilio che quest'anno ci ha regalato grandi emozioni campano doc lo abbiamo accompagnato in questi 400 metri ostacolo per ostacolo con il suo ormai risaputo marchio di fabbrica sibilio conquista la semifinale chiudendo al terzo posto con un allungo finale uno dei suoi passavano i primi quattro lo ricordiamo e lui si classifica al terzo posto della sua batteria con 49 secondi e 11 centesimi la cosa che ci fa ben sperare che nonostante abbia fatto comunque un gran tempo lui lamenta delle sensazioni non molto positive in questa batteria quindi sicuramente cercherà di fare meglio nelle fasi successive e questo ovviamente non può che farci sorridere e piacere 800 metri donne elena bellò quinta nella sua batteria viene fortunatamente ripescata grazie ad un ottimo tempo che è riuscita a realizzare due minuti un secondo e 7 centesimi salto in alto uomini lo showman half shave già marco tamberi rompe finalmente la maledizione di rio e si conquista la finale olimpica riuscendo a saltare quello che era il minimo delle qualificazioni due metri e 28 al secondo tentativo domenica ci sarà la finale purtroppo sottile viene eliminato ma comunque le bellissime immagini di Gianmarco tamberi che comprende perfettamente riesce anche ad immedesimarsi nelle sensazioni negative nel momento ecco triste per stefano sottile e lo consola le mila siepi uomini passano due atleti su tre per quanto riguarda la nostra italia hamed abdelawed passa subito grazie al suo terzo posto in batteria ripescato invece grazie al tempo realizzato alla zuglami mentre invece purtroppo a caso del tempo troppo alto viene eliminato il fratello osama lancio del disco uomini faloce non passa alla fase di qualificazione misura troppo bassa per lui 57,33 metri salto triplo donne una vera sfortuna per daria derkac che sfiora la possibilità di un ripescaggio se solo avesse fatto due centimetri in più rispetto al 13 e 90 realizzato ora potrebbe sperare in ale e invece purtroppo finisce qui la sua esperienza olimpica staffetta 4 per 400 mista scotti mangione borga aceti uomo donna donna uomo questa la disposizione per questa staffetta esclusi veramente per pochissimo sono è stato il primo tempo il primo tempo degli esclusi ma questo tempo comunque ci regala una gioia perché rappresenta il nuovo record italiano della 4 per 400 mista 3 minuti 13 secondi e 51 centesimi ed entriamo adesso nel vivo delle gare di quest'oggi nell'atletica italiana quelle che ci hanno fatto veramente emozionare tantissimo io voglio partire da prima con quella che c'è stata in chiusura il 10.000 metri la finale i 10.000 metri uomini dove avevamo il nostro jeman krippa che quest'anno è stato un anno d'oro potremmo dire per lui a tutti gli effetti quindi anche se oggi non ha vinto la medaglia questa medaglia gliela diamo noi per i tanti risultati che ha portato a casa record su record dal 1.500 3.000 metri 5.000 10.000 e oggi una grande diciamolo finale olimpica certamente sensazioni non buonissime certamente non c'è stato quel cambio di passo che avrebbe potuto fare la differenza ma comunque chapeau a questo ragazzo che così giovane ha saputo stringere i denti e giocarsela almeno fino ai 9.200 metri poi lì purtroppo si è spenta la lampadina ma comunque un grande jeman krippa che è riuscito ad avere la costanza di un passo di 2.50 a chilometro chiude undicesimo con 27 minuti 54 secondi e 0,5 centesimi e ora veniamo al 5.000 metri donne fase di batteria fase di qualificazione ma lasciatemelo dire ragazzi è stata proprio un'emozione da finale olimpica una strepitosa Nadia Battogletti per quanto ci riguarda Nadia da parte nostra ha già avuto la medaglia certo ci auguriamo che possa davvero regalarcela questa medaglia ma in ogni caso oggi ha davvero fatto dell'incredibile con il suo solito stile con la sua solita eleganza con la sua solita determinazione una ragazza che è capace di cacciarti il coniglio dal cilindro quando meno te lo aspetti con un passaggio persino più lento del suo ultimo record sui 5.000 metri nonostante un passo regolare di 3.03 a chilometro fino ai 4.000 poi è capace di tirar fuori un ultimo mille su sui 2 minuti e 43 secondi un incredibile Nadia Battogletti che come al solito nella curva finale negli ultimi 200 metri a quel cambio di marcia che tutto riscrive e riscrive anche la storia quella di oggi arrivando terza ricordiamo che venivano prese le prime cinque primi cinque accrediti l'è arrivata terza e con il nuovo record italiano 14 minuti 55 secondi 83 centesimi il secondo tempo di sempre in Italia per quanto riguarda i 5.000 metri ma bravissima semplicemente bravissima Nadia perché ci hai fatto veramente gustare un grande 5.000 questa è la giornata dell'atletica di oggi ovviamente facciamo anche un remake di quelle che sono state le emozioni più forti anche nelle altre discipline ci portiamo a casa un importante bronzo un bronzo storico per quanto riguarda il tiro con l'arco la prima donna arciera a salire sul podio olimpico un grande passo avanti e riconfermo quanto detto nelle giornate precedenti questa è l'olimpiade al femminile l'olimpiade delle donne perché le donne stanno veramente facendo un gran lavoro stanno portando a casa medaglie su medaglie e ancora sono le donne a riscrivere la storia olimpica per quanto riguarda il tricolore italiano a farlo oggi è Lucilla Boari che riesce a conquistarsi questo podio battendo l'americana Brown con un po di amarezza per quanto riguarda la possibilità di vincere quell'oro che purtroppo è andata alla russa Osipova ma comunque bravissima Lucella saffetta 4 per cento femminile mista vola in finale con il record italiano Pansiera Castiglioni di Liddo e Pellegrini firmano il nuovo record con 3 minuti 55 secondi e 79 centesimi rimaniamo sempre nel nuoto perché passano in finale anche la 4 per cento mista maschile con il miglior tempo assoluto ancora nuoto 1500 metri stile libero Paltrinieri conferma le ottime sensazioni che ci ha dato che ci ha confermato in questi giorni con la finale di ieri negli 800 metri lo fa anche oggi con il quarto tempo assoluto e passa in finale Italia Volley maschile batte per 3 a 1 Liran e vola dritta ai quarti di finale rimaniamo ancora nel contesto palla a volo ma questa volta la pavimentazione è tutta sabbiosa perché siamo nel beach volley continuano le olimpiadi per quanto riguarda la rappresentanza italiana naturalmente Nicolai e Lupo che battono i polacchi per 2 a 1 e vanno agli ottavi le altre due coppie al maschile e femminile invece si fermano qui delusione dalla scherma purtroppo l'argento di Rio la spada maschile a squadre eliminata subito dalla Russia e chiudiamo qui quindi questa giornata olimpica che veramente ci ha fatto già sognare con questo avvio dell'atletica ma siamo sicuri che ne vedremo ancora delle belle quindi occhio al medagliere che di fatto non ha nessun valore attenzione non c'è una classifica per quanto riguarda le squadre ma comunque c'è una soddisfazione personale e quindi occhio a questo medagliere che sicuramente in queste giornate potrà cambiare notevolmente e occhio al nostro tricolore video run.it breaking news a domani con altre nuove emozioni a domani con altre nuove le sue usi a